Diffondere la cultura della legalità attraverso i valori della sostenibilità ambientale e del riciclo dei rifiuti. Questo è l'obiettivo della giornata organizzata dal gestore dei servizi energetici a 25 anni dalle stragi di Capaci e di Via D'Amelio, in cui morirono i giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Il GSE ha ospitato così 100 studenti delle classi medie superiori del casertano, che hanno partecipato al concorso Riciclicche organizzato da Agro Rinasce, società consortile fondata da sei comuni della provincia di Caserta che si occupa del recupero a uso pubblico e sociale dei beni confiscati alla Camorra. L'incontro arriva dopo un ciclo di nuove giornate di lezioni che il GSE ha tenuto proprio nelle scuole del casertano. Luca Barberis, direttore di divisione sviluppo sostenibile del GSE. Il GSE è una società dello Stato che promuove lo sviluppo delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica, quindi della sostenibilità ambientale, che è un atto di responsabilità verso le generazioni future, è una necessità per il futuro. I migliori rappresentanti delle generazioni future sono gli studenti. Il GSE dedica un giorno a settimana la formazione nelle scuole. In questo evento ospitiamo 100 studenti delle scuole del casertano, a conclusione di un ciclo di nuove lezioni effettuate dal GSE sul territorio proprio sulla sostenibilità ambientale. Dopo il saluto ai ragazzi del presidente del GSE, Francesco Sperandini, su quale sia il rapporto tra l'ambiente, la sostenibilità e una nuova cultura della legalità, è intervenuto Franco Latorre, figlio del parlamentare ambientalista Pio, ucciso dalla mafia. Perché è dunque importante parlare di energie rinnovabili in rapporto al contrasto alle mafie? Latorre. Perché è progresso? Quel sistema di potere non vuole che si vada avanti. Ama vivere sulle rendite di posizioni date dai loro privilegi o dall'uso della violenza per esercitare il potere. Fondamentale allora sul territorio la collaborazione offerta agli operatori e ai formatori dal GSE. Giovanni Allucci, amministratore delegato di Agro Rinasce. Noi operiamo su un territorio ovviamente dalle note difficoltà. Quando si parla di eco-mafia o anche di terra di fuochi si pensa sempre al nostro territorio. Invece noi stiamo cercando di dimostrare, e questo grazie al GSE, che sul nostro territorio invece è possibile fare altro. Grazie a tutti.